Dovete sapere che oggi approfittiamo anche per dare una notizia all'Italia che a me riempie d'orgoglio come Ministro dello Sviluppo Economico, cioè che come Governo abbiamo nominato, individuato il Maestro Lino Banfi e andrà a rappresentare l'Italia nella Commissione Italiana per l'UNESCO, cioè abbiamo fatto Lino Banfi, patrimonio dell'UNESCO. Grazie, che vi devo dire con questo il Ministro ha chiarificato perché giustamente i giornalisti prima dicevano ma tu che ci fai qua, io la prima volta mi sono inventato per salutare il Presidente del Consiglio dico per tre motivi perché è corregionale mio, è romanista come me ed è il Presidente del Consiglio che io sono cittadino italiano, ho parlato di cittadinanza ma io non centro, ho detto mi hanno investito in un incarico, il Ministro stamattina mi ha voluto vedere dei beni culturali e io dico che centro io con la cultura poi ho scoperto questa carica è bellissima perché di solito in questi casi l'UNESCO credo che le commissioni fino adesso si siano fatte con persone che sono plurilaureate in questo e in quell'altro, conoscono bene la geografia, i posti, i siti, gli ipogei, tutte queste cose che io non so. Io voglio portare solo un sorriso dovunque, in qualunque modo, anche nei posti più seri.